La processione di autostradali Venete e Cava SPA gestisce il tratto di autostrada 4 che va da Padova Est a Quarto D'Altino, che gestisce l'autostrada A57 per buona parte, complessivo di rete di circa 70 km, molto significativo perché registra passaggi quotidiani nell'ordine dei 100.000 veicoli al giorno, con punte che vanno oltre i 180.000 durante i periodi di esodo e uno snodo di traffici molto importante non solo per il Paese ma anche per tutta l'Europa. Tra gli impianti gestiti da CAV è compresa un'importante rete a fibra ottica che costeggia la nostra rete autostradale lungo la quale vengono trasmessi importanti dati sensibili tra i quali quelli dell'esazione da pedaggio. Questa rete è basata su apparati Cisco ad elevata prestazione ed alta affidabilità. Nell'ambito di questa rete abbiamo pensato di poter trasportare oltre i dati di esazione anche altri dati, nello specifico quelli relativi alla telefonia. Una delle esigenze che avevamo era quella di poter raggiungere gli operatori della viabilità e dell'esazione a 24 ore su 24. Il vecchio sistema telefonico basato su un centralino tradizionale non consentiva questa funzionalità. Un'altra esigenza a cui dovevamo trovare la risposta è la necessità di poter dare la connessione telefonica agli operatori su ogni fabbricato aziendale. Perciò prima avevamo dei vecchi cordless che non garantivano questa funzionalità in quanto quando l'operatore si spostava da un fabbricato all'altro la linea cadeva. Un'altra esigenza era quella di poter gestire in maniera funzionale i due posti operatori che normalmente svolgono la funzione di centralinista ma il vecchio centralino a cui avevamo disposizione non garantiva determinate funzionalità. Ci mancava la possibilità di spostare le chiamate da un posto operatore all'altro, di poter inserire dei messaggi automatici di risposta, delle funzionalità moderne che col vecchio centralino non avevamo. Come ulteriore problematica da gestire e da risolvere nell'ambito di questo progetto c'era la gestione della citofonia. Noi abbiamo infatti sette stazioni autostradali e in ognuna di queste sette stazioni sono presenti dei citofoni. Il personale operativo 24-24 deve utilizzare e rispondere ai citofoni per poter magari aprire ai trasporti eccezionali. Quindi abbiamo pensato di poter centralizzare la gestione dei videocitofoni in un unico centro che potrà poi smistare le chiamate dei vari videocitofoni. La risposta alle esigenze terogenee di CAV non poteva che essere il Cisco Unified Cooperation Manager perché è un sistema che centra innanzitutto tutta la funzione telefonica, quindi si buttano via tutti i centralini distribuiti su tutte le varie sedi e si ha una logica centralizzata da cui posso gestire l'intera rete allo stradale. Con la tecnologia Cisco implementata da T-Net abbiamo ottenuto i massimi benefici rispetto alle nostre esigenze. Riduzione dei fornitori in quanto abbiamo un fornitore unico ed un unico gestore, la riduzione dei costi, una migliore e più semplice funzionalità del sistema e soprattutto molte nuove funzionalità che possono essere implementate. Una delle sorprese migliori è stato il sistema Wi-Fi. Non mi immaginavo di trovare una copertura così estesa e una qualità della comunicazione così elevata. L'utilizzo del Wiresland Controller di Cisco, integrato con gli access points di ultima generazione e nella suite di collaboration unificata di Cisco, ha permesso di estendere la qualità della rete wired anche alla rete wireless. In questo modo l'utente che si muove all'interno dell'ampia infrastruttura di CAV non ha più la percezione del cambio della cella e soprattutto gode di una qualità della telefonia assolutamente di eti standard elevatissimi. I telefoni cordless collegati al sistema Wi-Fi vengono utilizzati principalmente dai fattolini ed in particolare dai coordinatori della viabilità, che è il personale che gestisce tutte le emergenze e nelle normali funzionalità dell'autostrada 24 ore su 24. La nostra idea è quella di unificare la rete office con la rete di telefonia aziendale per poter godere ancora di più di tutte le opportunità fornite dal sistema SISO. Nella globalità parliamo di semplicità delle comunicazioni, efficienza e miglior utilizzo del tempo del personale.